Diceva, mangia, mangia anche qua nel piatto di oggi, poi io volevo un'altra fetta, mi diceva, mi diceva, quindi i piatti vengono un altro piatto e diceva, vediamo, e io vado a ricercare, ti dico, ma è cosa che a me manca, poi qua, mi diceva, ma mi vengono queste cose, si, se lo mone, mi diceva, per忙atore, dico, mi diceva, è mi so diffuso,